Coraggioso, determinato, primoroso, perché non provi a dare a lui il Miraculous? Grazie per avermi salvato la vita tutte quelle volte, Adrion. Vado a nascondermi, sono sicuro che ce la farete, Ladybug. Mi sono perso qualcosa. Luca Cuffen, ecco il Miraculous del serpente, ti darà il potere della seconda occasione. Lo userai per il bene superiore, si accetterà. Una volta che avremo vinto, dovrai restituirmi il Miraculous. Posso fidarmi? Desperada ha attaccato la mia famiglia e i miei amici, perciò se posso aiutarti in qualunque modo. Saluti, il mio nome è Sas e sarò il tuo Kwami. Oh, finalmente sei rinsavito! Non credo che Ladybug avrà un bel ricordo della sua esperienza con Adrion Agrest. A l'ora di media come Shandua!